Abbiamo bisogno invece di mettere radici anche nei nostri fallimenti. Buonasera dottori Cornaglia, qualche commento a caldo del film? È un film molto toccante, che mi ha colpito parecchio perché tocca dei temi molto interessanti che spesso ci dimentichiamo. Forse li abbiamo vissuti tutti durante il nostro periodo di crescita, ma vederli oggi dall'altra parte ci ricorda di essere passati in queste situazioni e che noi abbiamo avuto un aiuto che queste ragazze spesso non hanno. Quindi speriamo che questo film possa essere una guida per loro e uno stimolo a uscire da situazioni difficili. L'ho trovato molto bello, il concetto è vero, tutti noi cadiamo ed è vero che è lì che poi è il momento più importante. Trovo questa idea geniale perché penso che le nuove generazioni abbiano bisogno di questo stimolo. Non solo di vedere, siamo tanto adesso dell'immagine, di vedere il successo, ma abbiamo bisogno invece di mettere radici anche nei nostri fallimenti e far pace con questa parte. Quindi anche la progettualità di volerlo portare nelle scuole mi sembra un'idea geniale. Mi è piaciuto tantissimo e mi ha toccato nel profondo, quindi sono proprio contenta di questo lavoro. Bene, e quindi immagino siete orgogliosi del dottor Fabio Fontana in questo suo ruolo di produttore e attore? Beh, noi siamo fortunati perché siamo abituati a Fabio e alle sue trovate geniali. Collaboriamo con lui da anni e quindi sappiamo che è vulcanico e questa è una delle sue opere. Di certo quando lui sposa un progetto c'è sempre qualcosa di ciccioso sotto e devo dire che anche questa volta... Non c'è mai deluso. Non sapevamo bene quale fosse l'argomento, ma devo dire che anche stavolta ci ha colpito. Bene, parlando di cose un po' più serie, per chi non ha mai provato il Tower Patch, cosa direste? Cioè, se doveste consigliare il Tower Patch, cosa direste? Beh, direi che noi abbiamo sposato Tower Patch perché crediamo nella possibilità di un modo di curarsi differente, senza nulla a togliere la chimica e la normale medicina che comunque abbracciamo e che usiamo tutti i giorni, ma il Tower Patch permette di arrivare laddove la medicina tradizionale non ha dato risposte e abbiamo in questi anni seguito più di 600 pazienti applicando il Tower Patch e dobbiamo dire che veramente ci ha sempre permesso di arrivare laddove non troviamo le risposte giuste per loro, per cui siamo contentissimi ed è un'unione di intenti, di visione del futuro e di come vogliamo curare le persone. Per chiudere con una battuta legata al film, aiuta le persone a rialzarsi e quindi vediamo questi miracoli tutti i giorni e vedere le facce dei nostri pazienti, quello che ci dà l'energia per continuare a lavorare con Fabio, a studiare, per migliorarci sempre, per migliorare il prodotto, per dare a tutti la possibilità di rialzarsi. Sì, è un'apertura mentale, ha una visione più ampia. Fantastico, grazie mille, buonasera.